Andrea, finalmente ci siamo, è la settimana che porta da Ancona a Teramo, direi che il Teramo ci arriva nella maniera migliore possibile. Sì, no, dai, arriva questa partita, diciamo, che è una partita, diciamo, a dita di tutti, molto importante, noi anche noi sappiamo che è una partita molto importante. E niente, dai, siamo cosci di affrontare una partita che sarà molto difficile, però non la affronteremo come tutte le altre altronde, perché poi è una partita sempre come le altre, quindi cercheremo di fare il massimo, di cercare di portare a casa un risultato importante. Ecco, un Teramo che andrà lì per i due risultati, oppure la mentalità è quella di andare lì, imporre il gioco e vincere? Io penso che, come abbiamo fatto sempre, fino ad oggi, cioè con massimo rispetto per l'avversario, perché poi quello c'è sempre, no, però andremo lì a fare la nostra partita, cercando di portare a casa, come sempre, di portare a casa la vittoria, no? Poi è normale, se affrontaranno l'avversario ci saranno anche loro, la penseranno come noi, però ecco, noi assolutamente non andiamo lì per accontentarci, perché sarebbe l'errore più grande. Andiamo lì per giocare la nostra partita e poi vedremo quello che succede. A suo tempo ad Ancona forse non hanno visto il vero Bocchi, glielo farei vedere domenica. Ah no, a parte questo no, diciamo, è stata un'esperienza, diciamo, non felicissima a livello calcistico, però che comunque sia mi è servita molto sotto l'aspetto umano per crescere, perché comunque sia, anche nelle cose difficili, uno deve cercare sempre di tirar fuori poi quello che può essere magari un bagaglio di esperienza, no? Quindi per me mi è servito tanto sotto l'aspetto umano per forgiarmi un pochino. Sicuramente, ecco, come dicevo prima, calcisticamente non è stata un'esperienza bellissima, però ecco, non porto nessun tipo di rancore, di cosa. Spero solo che, ecco, adesso con il gioco per il Teramo, di poter fare una bella partita per noi come squadra e di cercare di portare a casa il risultato che per noi sarebbe importantissimo. Al di là dei rischi insiti nella partita secca, che cosa temi, se c'è qualcosa che temi, dell'Ancona? Ma sicuramente c'è da temere il fatto che Comunica sia una buonissima squadra, composta da giocatori importanti che possono fare, ecco, la differenza in qualsiasi momento. Il pubblico, secondo me, in questa partita poi, sapendo che magari, ecco, vanno a affrontare la prima classifica, li sosterranno magari, quindi un po' tutte queste cose messe insieme e possono essere, ecco, per loro, diciamo, ecco, il dodicesimo uomo in campo, no? Però, te l'ho detto, noi sappiamo il nostro valore con la massima umiltà, andremo lì a cercare di fare la nostra partita, senza timore, senza niente, ecco, affronteremo a viso aperto. E Bucchi sta benissimo perché continuano a segnare un gol a partita. Dai, non diciamo niente, però dai, va abbastanza bene adesso le cose, dai.